E' l'edizione della crescita e delle attività che dal cacao ricavano eccellenza da tutto il mondo. Nelle materie prime sarà presente anche un ufficio del Peru e nella lavorazione con cioccolatieri da diverse regioni italiane, compresi i pluripremiati Luca Mannori e Guido Castagna. Ecco Ciocco Marche dal 24 al 26 novembre in piazza Pertini ad Ancona. In programma degustazioni, guai a chiamarli solo assaggi, laboratori, spettacoli con lo zucchero, attività per i bambini e poi accanto all'elemento principe il cioccolato, appunto il caffè, i liquori, la birra, i vini. Perché non c'è matrimonio più felice che quello del gusto che si traduce in spinta economica. Soprattutto è l'occasione comunque per mettere in vetrina delle produzioni di eccellenza per quanto riguarda l'artigianato, per quanto riguarda un artigianato veramente di qualità e cercare di sponsorizzare quelle che sono quelle aziende, quelle attività artigiane che fanno continuamente ricerca, che cercano insomma di fare un prodotto sempre migliore e cerchiamo noi di dare spazio a queste attività, fare in modo insomma di metterle in vetrina. Le attività, le eccellenze nel filo conduttore, tutti i colori del cioccolato. Cioccomarche sono anche attività proprio per sperimentare il cioccolato e degustare un cioccolato sopraffino. In particolar modo abbiamo l'area denominata Universo Cioccolato, in cui ci saranno degustazioni guidate e coordinate da Monica Meschini, in cui si potrà assaggiare un cioccolato che difficilmente si trova sul mercato e conoscere il prodotto dal punto di vista anche della struttura, del colore, quindi imparare a riconoscere un cioccolato di qualità da un cioccolato invece di scarsa qualità. All'interno di questa area ci saranno poi dei pastri show tenuti da stelle del mondo della pasticceria e della cioccolateria, come Luca Mannori, che è un campione mondiale di pasticceria, Guido Castagna, pluripremiato nell'ambito della cioccolateria e Sara Coroni, che è una pasticcera anconetana molto giovane, anche lei campionessa mondiale di pasticceria nell'ambito di un concorso sull'arte dello zucchero. Cioccomarche è anche una manifestazione per i bambini, ci saranno anche laboratori per loro, in cui i bambini potranno decorare delle tavolette di cioccolato, aiutati dal maestro pasticcere Sandro Gianangeli, che è un pasticcere del nostro territorio, e poi ci saranno delle attività ludiche sul tema del cioccolato. Si tratta di dare gusto, corpo e fantasia all'elemento più ambito protagonista dell'inverno che arriva. Io voglio che le persone che vengano non mangiano cioccolato, ma aggiungano al palato la testa, il cervello, il loro archivio mnemonico, a partire dai bambini alle scuole alberghiere, ma anche i comuni visitatori, che visiteranno le nostre degustazioni guidate con le stelle del cioccolato, o con tutti i marchigiani presenti, che sono comunque dei gran bei cioccolatieri, dovranno sedersi, prendersi del tempo e cercare di capire questo alimento principale che è il cacao. Se un cacao non è buono, non si può avere un buon cioccolato. Questo è essenziale da conoscere e lo faremo capire attraverso le degustazioni, così come faremo capire il senso del claim, tutti i colori del cioccolato, che vuol dire che pur avendo la stessa percentuale di diverse provenienze o differenti genetiche, lo stesso cioccolato, a livello di ricettazione, può avere colori assolutamente differenti. Si tratta anche di un momento per dare nuova vita ad una piazza del centro della città. Sì, diciamo che siamo arrivati al punto in cui finalmente abbiamo chiare le idee su quello che serve a piazza Pertini ad Ancona. Quindi ci aspettiamo che a brevissimo l'amministrazione comunale presenterà il progetto definitivo di riqualificazione della piazza stessa. Dopo 16 anni che sperimentiamo, fattivamente, concretamente, siamo in grado ora di avere in testo un progetto che possa essere funzionale per Ancona. La piazza dovrà essere definitiva, funzionale e bellissima, perché è una delle piazze principali quando si entra ad Ancona. Quindi questa volontà di portare iniziative, parliamo di Cioccomarche, ma pensiamo alla Fantafiera, Ancona Senior City, Piazza Artigiana, proprio con la logica di sperimentare per comprendere piazza Pertini come luogo ideale per portare iniziative di eccellenza ad Ancona e animare Ancona. Quindi stiamo andando tutti verso questa direzione. Un'occasione di lavorare in squadra che arriva in un periodo in cui la città di Ancona, attraverso il Natale, vuole dare, come dire, oltre che bella mostra, sostenere anche l'economia locale, le economie locali. Le imprese sono tante, sono quelle che lavorano nell'agroalimentare, sono quelle che lavorano nella pasticceria, sono quelle che fanno le navi, in Ancona soprattutto, ma sono anche quelle che fanno il cioccolato, sono anche quelle che lavorano nell'ospitalità, nel turismo, negli alberghi. Quindi avere in città eventi, eventi di qualità, in maniera strutturata, in maniera programmata, in modo continuativo, è uno dei modi in cui un'amministrazione locale può sostenere l'economia e dunque può favorire la creazione del lavoro.